Esponente della famiglia più potente e discussa del rinascimento italiano, spesso al centro di intrighi e scandali che ne hanno alimentato il mito di donna fatale, Lucrezia Borgia viene in realtà descritta dagli storici come una politica lungimirante ed un'abile cortigiana. Il suo matrimonio con il duca di Bicelli e Alfonso d'Aragona, benché breve e sfortunato, legò per sempre il suo nome alla città pugliese, dove la figura della nobildonna, figlia di Papa Alessandro VI continua ad essere ricordata grazie alle iniziative promosse dall'osservatorio nazionale duchessa Lucrezia Borgia. Domenica scorsa, nel settecentesco seminario diocesano, si sono chiuse le celebrazioni per i 500 anni dalla sua scomparsa con il conferimento del premio intitolato alla duchessa alle personalità del territorio che si sono distinte in campo culturale e scientifico. Riconoscimento andato quest'anno al maestro Marco Miciagna, violinista di fama internazionale, considerato uno dei più virtuosi talenti della sua generazione. Al professor Angelo Vacca, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Interna all'Università di Bari, nonché autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche e dal corso di laurea in lingua inglese della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo Barise, rappresentato per l'occasione dal professor Luigi Santa Croce. Alla consegna dei premi hanno partecipato il sindaco Angelo Antonio Angarano, l'assessore alla cultura Tonia Spina ed il presidente dell'osservatorio Antonio Speranza. Si chiudono con questo evento le celebrazioni dedicate a Lucrezia Borgia nel cinquecentenario della sua morte.